Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi vi mostrerò come ho potuto abilitare il richiamo vocale di Google Now in italiano Sul mio Galaxy S2 con Sano Gmod 11 Bene, passiamo all'azione Allora, come potete vedere in alto è apparsa la dicitura, pronuncia OK Google Vabbè, non l'ha preso ma riproviamo OK Google Ed ecco, è partito Pronto a soddisfare ogni nostra richiesta, in modo di dire E funziona, sì, come se ne dovessimo andare su Google Now e pre-tappare il microfono Stessa identica procedura, però ecco, possiamo usare la voce Soltanto che consuma un pochetto più di batteria, quindi per disattivarlo vi basterà premere menu Impostazioni Voce E nella parte qui, il rilevamento Hot Word Sarebbe Parola calda Maltradotto E levare la spunta Ora infatti tornerà tutto come prima Noterete che il microfono non è più di color pieno E comparirà anche la scritta pronuncia OK Google Infatti non accade nulla E con questa piccola video, spero di essere vista d'aiuto, troverete tutto nel link in allegato Ciao e al prossimo video Ciao e al prossimo video